C'è aria di festa in casa della Gymnastics Club Gela per la convocazione nella squadra nazionale di cheerleading della giovane atleta Mara Guelli, 16 anni. Dopo la selezione dello scorso dicembre a Palermo sono state individuate 30 atlete in tutta Italia e tra queste c'è Mara Guelli, allenata da Simona Scerra. È stata una bella esperienza soprattutto potermi confrontare con gli atleti più forti d'Italia del cheerleading. Non mi aspettavo di essere selezionata però è stato molto emozionante. Mi sono trovata molto bene con le mie compagne di squadra con cui sono cresciuta però sarà una bella esperienza fare nuove amicizie con atleti di tutta Italia. Una vittoria condivisa che abbraccia e coinvolge tutti i genitori, il team della Gymnastics Club, compagni di squadra e tutta la città perché bisogna essere orgogliosi di avere una concittadina che veste la maglia azzurra. Mara Guelli parteciperà il prossimo luglio dal 21 al 28 ad una gara internazionale in Cina. Noi quello che cerchiamo di coltivare su queste ragazze sono proprio quello dei sogni, sognare e pensare di potercela fare. Tra l'altra cosa uno dei nostri obiettivi è proprio quello di costruire le ali che gli permettono di crescere in maniera corretta. Lei ha preso le ali che gli permetterà di volare in Cina, queste gare internazionali, visto che fa parte della squadra nazionale italiana del cheerleading.